Musica Vanno tutti d'accordo? E' questo il quesito interessante che si espone prima di iniziare un percorso formativo da parte di un'azienda. Un'organizzazione cresce e si sviluppa attraverso le relazioni tra le persone. Il confronto è stato il punto focale dove Cristiano Braggian, formatore CEO di Bosses RL, ha esposto concetti di comunicazione per tutto lo staff della pasticceria Baciglieri di Marchirolo. Le reazioni sono state molto positive da parte di tutti. Infine è intervenuto il signor Baciglieri esprimendo un pensiero importante a tutto il suo staff. Devono fare un lavoro che gli piace e pensare di guidare una grande Ferrari. La voglia e la determinazione di crescere insieme sarà sicuramente uno dei loro obiettivi. Chiudiamo con una massima. Il mio lavoro è un gioco, un gioco molto serio.